a tutti sarà capitato di avere un amico credulone e di avere la tentazione di trattarlo con un atteggiamento magari un po' paternalistico la cosa però cambia quando i creduloni siamo noi e può succedere a chiunque anche alle menti più scientifiche anche alcuni premi nobel sono caduti in trappole mentali più o meno pericolosi per se stessi il prossimo ma perché è tutto sommato così semplice che la nostra mente cada in questi tranelli la verità è che ci sono anche casi in cui ci rema contro qualcosa di atavico un meccanismo che ci ha permesso di arrivare dove siamo oggi parliamo della selezione naturale massimo polidoro giornalista e segretario nazionale del cicap ne ha parlato nel suo ultimo libro la scienza dell'incredibile è detto da feltrinelli e oggi è qui per parlarne con noi buongiorno e bentornato sul bo live grazie buongiorno buongiorno a tutti ecco può farci qualche esempio di come la selezione naturale può mettere fuori gioco il nostro senso critico beh teniamo presente che noi siamo come specie come homo sapiens siamo in viaggio almeno da 300 mila anni quindi in questo lungo viaggio dove abbiamo vissuto in un ambiente molto ostile con animali feroci con pericoli ambientali con rischi di ogni tipo tribù insomma dovevamo cavarcela e quindi il tipo di mente che abbiamo sviluppato per riuscire a salvarci e sopravvivere era una mente pronta a reagire distinto a prendere decisioni al volo anche sulla base di pochi dati altrimenti rischiava di non sopravvivere e quella mente così pronta a reagire distinto e quindi ad avere impulsi basati più che altro sulle emozioni forti beh è ancora con noi noi certo oggi viviamo in grattacieli andiamo in aeroplano e quindi siamo tecnologici siamo in un mondo tecnologico ma la nostra mente ancora quella è ancora quella per gran parte paleolitica certo poi ci sono le nostre capacità di ragionamento superiori ma fanno più fatica a entrare in gioco no quando noi vediamo qualcosa che sollecita le nostre emozioni sia un titolo di facebook un post un video qualunque cosa tendiamo ancora ad avere quella reazione le istintive allora bisogna provare a controllarsi ma è più faticoso naturalmente non ci viene spontaneo ecco un caso particolare è quello delle dinamiche di gruppo che per esempio nel caso delle sette diventa veramente dannoso per le persone perché è così difficile uscire da una mentalità chiamiamola gruppocentrica è un altro di quei meccanismi che l'evoluzione ha favorito perché ancora una volta aiutava la sopravvivenza immaginiamoci un sempre un nostro antenato sappias che vagava per le savane se era da solo quante probabilità aveva di cavarsela non se era in gruppo aveva la possibilità di unire le forze di trovare degli alleati di insomma di aiutarsi a vicenda quindi queste capacità sociali di stare con gli altri si sono sono state favorite si sono evoluti in maniera molto forte al punto che ancora oggi come dicevamo sono così forti che noi tendiamo a preferire l'appartenenza al gruppo rispetto alla verità delle cose che ci circondano come quando succede senza andare nell'estremo delle sette ma semplicemente in un gruppo sui social un gruppo facebook o un gruppo a cui apparteniamo la nostra bolla diciamo così vediamo che tendiamo ad andare d'accordo con quello che gli altri pensano e che condividiamo ma quando arriva qualcosa che magari ci mette un po in dubbio sarà vera questa cosa cui tutti i nostri amici credono beh noi preferiamo andare d'accordo con loro anziché dover riconoscere che quello che crediamo tutti noi è sbagliato perché vorrebbe dire mettersi contro il gruppo rischiare di ritrovarsi da soli certo non c'è più quel pericolo di una volta ma il meccanismo entra in gioco ancora oggi lo vediamo in azione costantemente in particolare proprio sui social quindi noi viviamo con delle basi molto antiche che adesso non ci servono e possono anche danneggiarci ma c'è qualche scamotage per per evitare i pericoli insomma di tutto questo noi dobbiamo in qualche modo fare qualcosa che è un po controintuitivo cioè che va non dico contro i nostri impulsi perché appunto ormai è molto cambiato il contesto intorno a noi e ci rendiamo conto che non possiamo essere ancora quelli di una volta ma è uno sforzo quello che dobbiamo fare allora un piccolo scamotage che possiamo mettere in atto quando vediamo che qualcosa ci ha acceso le emozioni ci fa arrabbiare ci indigna un titolo un post una cosa che vediamo in genere sui social un video ecco in quel caso il fatto che noi subito ci sentiamo a vampare da qualche emozione ci deve mettere in guardia perché è molto probabile che chi ha scelto un titolo di quel genere chi ha messo una immagine così forte l'ha fatto apposta proprio per farci emozionare e in questo modo per offuscare le nostre capacità critiche ecco quello è un campanello d'allarme e quando lo notiamo ci deve in qualche modo spingere a dire aspetta un attimo lasciamolo lì per un attimo andiamo a vedere che cosa dicono altri proviamo a confrontare prima di condividere prima di dare dei commenti andiamo ad approfondire se lo facciamo in più delle volte scopriremo che quella era una notizia come si dice a chiappa clic o comunque un tentativo di manipolare la nostra attenzione parlavamo di dinamiche di gruppo che in linea di massima ci portano a maturare false credenze a fare qualche lite magari su facebook però non sempre sono dannose in certi casi invece possono essere molto più pericolose ci puoi fare un esempio? sì ci sono tanti esempi effettivamente uno dei più clamorosi se vogliamo è quello di Johnstown che è questo luogo nella Guyana dove si è stabilita un gruppo diciamo religioso una sette in realtà che veniva da San Francisco San Francisco era un gruppo di persone che in realtà era molto ben visto dalla comunità anche dalla realtà locale perché aiutava le persone in difficoltà cercava di aiutare l'integrazione anche eravamo alla fine degli anni 60 poi però viene fuori come spesso capita in questi gruppi che ci sono all'interno dinamiche molto violente se non abusi di vario tipo insomma vengono fuori notizie di reato diciamo così per cui iniziano delle indagini ma il Santoni il leader di questa setta decide che è venuto il momento di trasferirsi altrove fuori dalla giurisdizione di San Francisco e così vanno a stabilire questo al loro paradiso in terra come lo definiva lui e sono circa mille persone che vogliono andare in questo posto poi chiaramente si trovano fuori dal mondo in una giungla in una foresta lontana dai centri abitati devono costruirsi tutto fare tutto e pian piano anche qui iniziano arrivare negli Stati Uniti notizie di una situazione non facile di gente che vorrebbe andarsene via ma viene le viene impedito un senatore americano parte allora con alcuni giornalisti alcuni rappresentanti del congresso a seguito per vedere com'è la situazione e vengono accolti con grande gioia sembra tutto rose e fiori se non che durante le feste ecco che le persone presenti iniziano a passare dei bigliettini in cui dicono aiuto portateci via non vogliamo più restare qui è bruttissimo insomma il messaggio quello chiaramente con quegli aeroplanini con cui sono arrivati più di poche persone non possono portare e quindi cercano di dissimulare insomma questa situazione dicendo beh porteremo accompagneremo alcune persone a casa che vogliono vedere i loro parenti ovviamente questa cosa non va tanto giù al leader perché si rende conto che anche lì alla fine rischia di raggiungerlo la giustizia anche lui fa buon viso a cattivo gioco stanno per andare sulla pista di partenza quando arriva un drappello di uomini del gruppo armati che inizia a sparare uccide tutti quanti uccide compreso il senatore a quel punto il leader della jim john si chiama il leader della setta del gruppo capisce che non ha più tante speranze perché un aeroplano è riuscito a partire con alcuni superstiti e la notizia di questa strage di quello che è successo arriverà agli stati uniti e chiaramente ci saranno delle conseguenze pesanti e allora decide di mettere in atto l'atto finale quello che aveva promesso tante volte lo aveva già anticipato al gruppo cioè un suicidio di massa dice a tutti quanti che è arrivato il momento di andare in un posto migliore questa volta un posto dove non verranno inseguiti da nessuno e bisogna bere una sostanza un veleno a cui lui li ha già abituati più volte facendo bere delle cose che erano innocue ma convincendoli che fosse davvero veleno e così quasi mille persone si ritrovano a suicidarsi alcune costrette a farle evidentemente perché non tutti si erano lasciati convincere ma all'isolamento la riprova sociale il fatto di vedere che altri lo facevano per molti è stato il meccanismo sufficiente a condurli a una fine così terribile insomma e non dobbiamo però stupirci che succedono cose di questo tipo quando il gruppo inizia a credere a delle cose che non sono vere abbiamo visto l'attacco al Campidoglio il 6 gennaio del 2021 parliamo di dell'altro ieri alimentato certo da estremisti suprematisti bianchi ma sulla base di teorie del complotto campate per aria false notizie eccetera spingendo così tutte queste persone a convincere di fare qualcosa di buono per la democrazia parlando di riprova sociale mi viene in mente cialdini che anche lui aveva parlato di johnstown è possibile che esista anche una persuasione buona diciamo così beh certo ogni cosa ogni ogni comportamento ogni ogni scelta che noi facciamo non necessariamente negativa no tante tante cose che facciamo per fortuna sono buone sono positive quindi dare un esempio positivo è un'ottima cosa e può avere dei riflessi buoni per tutti anche il fatto per esempio di vedere una una ragazzina come greta no che ha iniziato a scioperare per il clima è diventato un punto di riferimento è diventato un modello a cui si sono ispirati tantissimi ragazzi in tutto il mondo creando un movimento che per la prima volta riusciva a rendere evidente a tutti il problema dei cambiamenti climatici mentre per 30 anni 40 anni gli scienziati gridavano nel deserto perché nessuno voleva ascoltarli nessuno voleva parlare di quello quando iniziano i ragazzini a farlo grazie all'esempio di greta diventa un punto di riferimento ma diventa un argomento ormai urgente che tutti quanti abbiamo ben presente quindi sì anche limitazione anche se vogliamo chiamarle tecnica di persuasione ma in realtà è proprio una spinta no la riprova sociale in questo caso ha dato degli effetti positivi c'è da sperare che questo porti anche però a prendere delle scelte decise e concrete in quello che riguarda il nostro futuro immediato per sui cambiamenti climatici grazie a tutti Grazie a tutti.